Sì ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda e sclementizio Stavolta culinario, più culi che nario direi Prima di cominciare mi raccomando in descrizione trovate tutti i miei link Tempestate di like questo video come sempre Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video Link in descrizione raga per acquistare le nuove magliette Dorian B King link in descrizione Il mio instagram come al solito ve lo impiallo potentemente qui mi raccomando venitemi tutti a stalkerare anche su instagram E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale youtube Mi raccomando andatevi tutti in massa ad iscrivervi anche a quel canale youtube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video nemmeno lì E' il video che andremmo oggi a Viseo unare con molta paura direi eh E' un video della serie mangio sushi asmr Una particolarità di questi video qual è raga vediamo se indovinate Che ci sono i titoli scritti in cinese, giapponese, coreano che non si capisce niente E quindi devo dare un titolo io così all'adminchiam No a caso ovvero mangio aragosta gigante sushi asmr Via Ciao come va salamalec c'è persone che leccano il salame Hai rotto tre quarti di minchia dai continua This is zero asmr Procedi ti prego Hai rotto il ca Vai avanti ti prego dai si Sto impazzendo Cominciamo malissimo veramente Imita 자 오늘의 먹방은 대왕 랍스타 Che questo è quello dei polpivivi Che non mi dire che ti mangi una ragosta viva Una ragosta gigante viva Perché raga quella è viva Oh ti prego non mi dire che se la mangia viva Questo si è mangiato i polpivisci di vivi Figuriamoci l'aragosta L'aragosta se la spolpa viva Salamasa udo Ti prego scappa Tu aragosta Ti prego scappa Non ti fare mangiare da colui Non ti fare degludire da lui Ti prego Salamasa udo loco Adesso Hai rotto tre quarti di palle Hai le chiele Difenditi con le chiele Ti prego difenditi Perché questo ti spolpa viva C'è poi 4000 kg di aragosta Ma poi come cacchio fai Ma te me lo spieghi Ti scegli proprio le bestie Le bestie più grandi Ti scegli le bestie più grandi C'è raga roba che se gli da un colpo di chiela qui Gli stacca la testa davvero Una chiela è grande quanto lui messo in piedi E' diventata arancione La cucinata Almeno la cucinata Ok l'importante è quello Anche perché se l'avesse mangiata viva e cruda Avrebbe fatto alquanto schifo Alquanto rovescio Come dire vomito Come dire vomito no Accingiamoci allo squartamento Della bestia Io non lo posso sentire Sento il crostaceo che scricchiola Madonna quanta polpa Quanta polpa risiedeva al suo interno Raga quanta polpa Allora a me piace il crostaceo Cioè nel senso va mi piace il granchio L'aragosta Il gambero Quindi non lo posso biasimare in questo Questo mi piace particolarmente A parte i polpi vivi che facevano un cagare nero Raga no? I polpi vivi facevano cagare tantissimo Questo però è accettabile Dai Almeno è commestibile Sta cadendo il sugo Il sugo del crostaceo Non c'è nessuna allusione Tranquillo Non c'è nessuna allusione soft pawn Tranquillo Quanto è buono il crostaceo raga Mi sta venendo l'acquolina in bocca Questo mi piace eh L'aragosta mi piace particolarmente Nonostante io non l'abbia mai mangiata E non l'avessi mai mangiata O non l'avrebbi Si dice non l'avrebbi mai mangiato Sbagliato E quando dico avrebbi ovviamente sono ironico Come in tutti i miei video raga eh Hashtag ironia eh raga come al solito E non c'è nessuna allusione sentite come gode questo è il rumore della goduria tra l'altro ha messo anche sul tavolino un vasetto con salsa piccante o ketchup scrivetemi nei commenti secondo voi cos'è salsa piccante o ketchup oppure sangue umano perché potrebbe anche essere lui è quello che si è mangiato i polpi vivi i polpi vivi il sushi ASMR mamma mia che passione che passione raga mi sa che è salsa piccante notando bene i suoi occhi che cominciano a lacrimare e lo sguardo che fa guardando la salsa e il colorito rossastro che sta prendendo tutta la sua faccia credo che quella sia salsa piccante e nemmeno piccante poco a tre minuti precisi si vede proprio la sua faccia che dice minchia è troppo piccante mi sa che ho fatto una e procediamo con lo squartamento del crostaceo raga una chiela una chiela pesa quanto lui una chiela che poi dove cacchio l'hai trovata una ragosta così grande dove cacchio raga solo lui le trova le cose così c'è le cose giganti una ragosta così e io sapevo che le ragoste erano grandi ma non così raga non così una ragosta enormissima e quindi raga l'hashtag per questo video è hashtag enormissima raga ma che cacchio è un alien raga è uguale a un alien l'avete presente l'alien però non quello formato quello lì che ha la forma diciamo prima quella con la mano no? che sembra una specie di mano e sembra quello dall'interno mi sembra la forma primordiale dell'alien quella che ti inietta l'uovo dentro la pancia c'è raga uno scempio ne ha fatto uno scempio quel corpo di quel crostaceo uno scempio completamente lo puoi prendere e buttare che non c'è più niente là se l'hai ingurgitato tutto ragazzi questo video veramente schifoso dico veramente schifoso che mi avete consigliato voi grazie e complimenti veramente finisce qui e mi raccomando in descrizione trovate tutti i miei link tempestate di like questo video come sempre è come in ogni video anche in codesto video la morale è solo una gambero nostro che sei nei mari sia santificato il tuo sapore venga la tua frittura sia fatta la tua crudità come in Asia così in Europa dacci oggi il nostro sushi quotidiano e rimetti a noi la tua vita come noi la rimettiamo ai nostri pescatori non ci indurre nella carne e liberaci dalle verdure ramen